dedicato Kia Rio, siamo in modalità DAB, queste sono tutte le stazioni in memoria usciamo gestione audio e video tramite USB musica tramite USB, qui abbiamo il percorso oppure possiamo gestire tutti i contenuti equalizzatore via voce bluetooth streaming musicale qui stiamo su Chrome Google musica 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 qui siamo su YouTube musica abbiamo recuperato la retrocamera originale e USB originale all'accensione luci diminuisce il display e intensità musica musica musica